ma mi puscia così cavolo vuole questo che i cento ok chi lato un altro ancora l'ho distrutto no 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 ok un altro ma raga 100 no vabbè ma prima che inizi il video ragazzi volevo ricordarvi che per shoppare tutte queste fantastiche skin potete utilizzare il mio codice supporto a un creatore ovvero ferro da stiro come potete leggere qua sotto di me e come potete leggere sullo schermo per supportarmi al massimo quindi grazie mille a tutti quelli che lo inseriranno grazie mille anche a tutti gli altri comunque che lasciano sempre like e guardano sempre tutti i miei video e che ovviamente sono iscritti al canale e che dire mettiamo pronto e andiamo in partita ok ragazzi eccoci in partita e salutiamo il nostro bus come al solito per la prima volta dopo i 6.000 punti come vedrete infatti fin... 5.992 ma ragazzi ve lo giuro che sono io super vabbè mi ha tolto d'altronde di 60 punti ci può stare allora ragazzi dai direi di fare almeno una kill subito riprenderci i nostri 6.000 punti e poi appunto vedere come sono un po le persone e sperando di non morire come un po lo subito all'inizio anche se potrebbe succedere vabbè vediamo come va a finire ok qua intanto c'è un bella r blu che prendo molto volentieri non c'è nessuno da laserare da laserare proprio nessuno vabbè non fa nulla allora prendiamo questa cesta mini e mitraglietta rega io sono già messo benissimo c'è pure uno scudone lì davanti cioè wow eppure un pompa ok cioè non so se sono i 6.000 punti che fanno trovare cose più potenti e più op però cavoli questa è davvero mamma mia che fortuna che ho avuto ok qua c'è la cesta ragazzi speriamo di trovare non lo so cosa un arco è d'altronde mi mancava solo un'arma a lunga distanza quindi ci sta molto bene l'arco che dire rega basta farmiamo e pushiamo subito siamo siamo già messi benissimo noi non so cos'altro fare ok ragazzi in realtà so cosa fare prima di pushare voglio trovare delle parti meccaniche farmi almeno il pompa del nonno con questo pompa qua ragazzi non andrei da nessuna parte lo sapete tutti che c'è in realtà fa schifo a tutti non è una cosa proprio bella che piaccia qualcuno fa schifo a tutti in generale quindi prendiamoci altre due parti meccaniche sperando di trovarne subito ok nulla siamo già stati in laser la cosa è una cosa molto brutta temi tutti no oppure missato non ci credo ragazzi devo entrare a prendere 43 perfetto 27 siamo morti ok siamo morti ok ragazzi siamo nella seconda partita sono atterrato proprio alla prima città perché voglio recuperare questi cavolo di punti intanto ho visto già un buon pompa del nonno se voglio qua dentro blu quindi sono atterrato quale per cambia vista ragazzi a raggi x e vedeva attraverso i muri se ve lo state chiedendo sì non perché a caso ho trovato questo no 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 tranquilli comunque stavo dicendo ragazzi abbiamo perso altri punti a causa del bus quindi non ci ha fatto uno scontro e nulla quindi dobbiamo recuperarli proprio tutti ora comunque prima impressione ragazzi mi sono fatto la zero troppo facilmente non so se sono stato io che ho dato tutto troppo per scontato mi sono detto vabbè i nemici non mi laseranno mai nella vita invece mi hanno distrutto o invece è stato proprio bravissimo l'altro che mi ha tirato una laserata assurda e e nulla è stato molto più bravo non ci posso far nulla intanto credo che vi dico facciamo bruciare quello perfetto diamone anzi un'altra perfetto facciamo bruciare tutta la casa così tutto il look cade poi ovviamente passo io lo prendo tutto intanto ragazzi hanno tolto l'opzione che perché si possono raccogliere i cavoli io avevo da quello che sapevo non si poteva non si potevano più raccogliere va bene e facciamo così nulla e no fatemi sapere piuttosto qua sotto voi nei commenti se anche voi pensavate li avessero tolti o no e nulla detto questo non so più che dire andiamo avanti ok ragazzi io mi sto tirando uno scudone però perché ho visto delle frecce che hanno hanno avuto così tanto coraggio da spararmi delle frecce wow mamma mia che coraggio intanto sapete cosa vi dico io lascio stare quello che vuol spararmi le frecce farmi un po di legna che è molto molto utile ma sta proprio lì beh ragazzi la mia la mia è quello che conta e io come vedete ne ho davvero molta o ne avevo pure uno dietro ma che cavolo wow c'è ok brutta cosa questa però ma mi buscia così cavolo vuole questo che i cento ok chi lato mamma mia ma ragazzi ma questo cattivissimo è entrato nel box e questo vuol entrare nel box così cattivo ma che cavolo hanno tutti ragazzi sono arrabbiatissimi mi tutti fermi tutti uno due tre quattro perfetto un altro ancora lo ha distrutto sono no 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 ok tutto un altro ma regà sento no vabbè ragazzi io mi dissocio spero non ci sia un'altra persona che cavolo ho appena fatto o mamma mia ok ragazzi dopo questa provata mi sono rifocillato un attimo per bene siamo full di ci manca tre di vita proprio più o meno siamo full abbiamo trovato un arco primordiale blu ed un p90 viola quindi tanta roba direi di riandare a pushare perché wow ci mancano ancora 20 punti cioè 8 punti in realtà però una kill serve per arrivare appunto di nuovo ai 6.000 punti ehi 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 aspetta un attimo si proprio tu che ti stai guardando questo video se ti stai divertendo e ti piacciono molto i miei video basta che utilizzi il codice creatore ferro da stiro mi raccomando ferro da stiro con due o nel negozio oggetti e così facendo con ogni tuo acquisto mi supporterai quindi se vuoi essere anche te un vero ferro da stiro comunque se non ne hai uno in casa ragazzi ultimamente avere un ferro da stiro è davvero difficile e vuoi avercelo per sciopare queste fantastiche skin ti basta inserirlo nello shop in questo modo beh che dire grazie a tutti quelli che lo faranno ragazzi come la mia solita fortuna quando dico che c'è da pushare non trovo neanche una persona ma mi sono abituato anzi sapete cosa vi dico proviamo la non mi ricordo come si dice la cosa inversa vabbè avete capito la psicologia inversa intendevo ecco e allora io non voglio pushare nessuno spero di non trovare neanche una persona perché voglio camperare al massimo mi avete sentito lobby voglio camperare al massimo non pushatemi per favore ok non neanche questa puntina supporti quindi ho sentito sparare o cavolo è invece sì che funziona così due colpi 22 va bene va bene questo sembra molto molto forte se lo so di non morirci buttare tutto all'aria invece sì ci morirò perché questo è fortissimo allora fermiamoci speriamoci bello danno 3 bello anche questo di danno che un altro gli spara perfetto perfetto spammate adesso arrivano tutti ragazzi cioè mi è bastato dire non voglio fightare sono arrivate dieci persone mamma mia e la si sono distrutti e mini vuol dire che non è messo benissimo busciando troppo e non dovrei fare così tanto aiuto aiuto 112 no in due ma ragazzi ma cos'è tutti i panini fanno con me non è possibile sta cosa ok ragazzi siamo nella terza partita c'è un tizio qua davanti a me lo puscio veloce veloce poi vi lascio al endgame perché chi se no ragazzi io voglio vorrei far punti in questa partita non vorrei perderli quindi non avete capito non fermi tutti proprio qua non mi ha visto vero il cavolo soprattutto in fiamme perché si penso mi abbia mi abbia visto allora sì che mi ha visto invece però mi pusci te lo mi vuol piacinare lui è ragazzi non posso bruciarlo solo 280 in materia ok si lo puscio io ho già capito e vediamo vediamo quello che vuol fare tanto like l'ho preso perfetto e adesso si boxa dietro nel box cattivissimo 130 fam ok io direi per oggi basta è meglio che vado con calma campero e al ritorno 6.000 punti quindi basta concludiamo qua questo video ok ragazzi quindi in teoria siamo tornati a 5932 punti quindi non sono più ai 6.000 però vabbè ragazzi le prime partite dobbiamo ambientarci nella nuova divisione perciò ci può stare anche perché poi ragazzi non so se avete notato ma io me la sono pure giocata bene però gli altri hanno tutti messi o meglio io in un panino tipo questo di prima se avessi avuto io il nonno l'avrei distrutto però lui aveva il nonno io avevo un'arma schifosa vabbè ma non stiamo qua adesso a guardare i piccoli dettagli siamo stati comunque bravi dai non abbiamo perso chissà quanti punti quindi ci sta comunque ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se almeno a voi è piaciuto il video anche se a me non è piaciuto però fa niente e vi ricordo molto molto importante tre cose per supportarmi like istruzione se ancora non avete fatto ma molto molto più importante ancora per un ulteriore supporto codice creatore ferro da stiro con due o nel negozio oggetti oltre a questo ragazzi vi ricordo molto importante di seguirmi su instagram e su tiktok anche se non so perché ho fatto così perché usciranno lungo tutto lo schermo però mia webcam è solo qua quindi posso far solo così e così comunque seguitemi anche sugli altri social per tutte le novità e tutte le news niente che dire dire di accettare ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao